L'obiettivo di questo festival è quello di valorizzare la figura di San Francesco, tra parentesi molto attuale e quindi non ha sicuramente bisogno di una nostra valorizzazione, ma di metterla nel nostro luogo, cioè di valorizzarla qui da noi nell'ambito del suo percorso, cioè del percorso che lo portava ad Assisi e Laverna e per valorizzare il suo messaggio. Tre giorni tra arte, storia, cultura, musiche e convegni sulle tracce di Francesco. A Sansepolcro è infatti tornato il Festival dei Cammini di Francesco, filo conduttore di questa edizione, il tema dell'inclusione dell'altro. Che è uno dei messaggi lanciati da San Francesco e quest'anno lo affronteremo con varie iniziative, spettacoli, convegni, rappresentazioni, dove cercheremo in qualche modo di analizzare questo difficile problema che viviamo tutti nella nostra quotidianità e nella sua drammaticità. La Valtiberina è diventata così centrale per la divulgazione del messaggio di San Francesco, contanto di un luogo simbolico creato per i giorni del Festival Il Bosco, nella centralissima piazza di Torreberta a Sansepolcro. Portiamo circa 300 alberi in questa piazza, dove facciamo riappropriare il centro urbano dalla natura, è come un rimpossessarsi e riguadagnare metri sani di spazio. Altro filo conduttore di questa edizione, il tema del rispetto del bene comune e dell'ambiente, ed è proprio da qui che è nata la riflessione sull'importanza dell'acqua, risorsa essenziale per la vita del pianeta, oggi minacciata da uno sviluppo improprio e elemento anche al centro del libro sull'acqua di Michele Serra. L'acqua lombarda alla quale il libro è dedicato ha una storia molto particolare, prima di ricchezza agricola straordinaria, poi di enorme prelievo industriale, quindi l'acqua è servita per costruire acciaio, per costruire la siderurgia. Infine la siderurgia se n'è andata, ha chiuso i battenti e l'acqua è riemersa, è risalita di livello, quindi la falda dell'acqua di Milano arriverebbe a lagare le stazioni della metropolitana se non ci fossero le pompe idrovore che la succhiano via. Ecco, è una storia di livelli. Qui, proprio qui vicino, c'era l'orchestra più grande mai vista al mondo, una gigantesca orchestra di metallo che produceva senza sosta un suono sovrumano e profondo, il salmo interminabile della produzione industriale. Giorno e notte il battito solenne delle macchine smisurate che lavorano l'acciaio. Volenti o non volenti abbiamo potere di governo sul mondo, è inutile che facciamo finta di no, abbiamo una responsabilità enorme, abbiamo tecnologie straordinarie che possiamo usare bene oppure male e quindi ci tocca, ci tocca proprio capire che la terra è nelle nostre mani e chissà che non se ne accorga un numero un pochino più consistente di persone, che non sia soltanto un'idea delle avanguardie questa che bisogna occuparsi dell'ambiente, ma che diventi pensiero di massa.